Un saluto da Andrea Cartotto, una risorsa, quella che vi segnalo quest'oggi, dedicata in particolare ai docenti di lingua inglese, ma anche trasversalmente utilizzabile ed impiegabile, perché no, dai docenti di altre discipline, nonché una risorsa impiegabile per le attività che prevedano il CLIL. E nell'ambito docenti sappiamo di che si tratti, ad ogni modo il CLIL, solo per dare una informazione in più, è appunto l'insegnamento di una disciplina scelta tra quelle che sono presenti anche in questa risorsa in lingua inglese. Dunque, risorsa interamente web, sito di riferimento, wittywe.com, wittywe.com. Grazie al collega e bravo esperto digitale, uomo di scuola preparato e competente, Roberto Sconocchini, il maestro Roberto, da cui ho avuto il placet, ecco di qui lo spunto, insomma, per poi realizzare il videocorso che ora osserviamo. Questa è una risorsa freemium, cioè in larga parte free, dunque con risorse gratuite e gratuitamente fruibili, e poi un piano a pagamento che prevede il coinvolgimento del docente e degli alunni, se del caso. Però, proprio perché è una risorsa freemium, che ha quindi una componente gratuita, vedete che io ho questi bei tastoni colorati divisi per disciplina. Mi piace molto questa interfaccia, cioè questo modo di presentarsi della web app. È una interfaccia, ne parlo anche qui all'interno del mio canale youtube.com slash trainer Andrea, improntata alla gamification, cioè a rendere l'apprendimento in chiave ludica. Ci sono contenuti video ed attività a modi quiz. Vediamo un pochettino, io posso prendere attività contrassegnate dalla bandellina free, questa qui diagonale rossa. Le prendo dalle diverse categorie che vediamo qui in orizzontale. Ad esempio, io ho, è molto interessante francamente, ho trovato medicina e anatomia, scienze per i bambini. Ci sono una serie di attività, vi ricordo appunto di controllare la bandellina free, io posso scorrerle con la freccia, mi incuriosisce il sistema circolatorio. Io faccio un click e vi mostro che qui in realtà io ho un video tematico che descrive l'argomento. Ad esempio, la trovo intrigante anche nell'ottica della Flipped Classroom per una lezione capovolta. Io clicco sul mio triangolino play ed ecco, ancora un click su play. So che non sentite l'audio in cuffia, l'ho io, ma state vedendo l'animazione che appunto ci consente di raccontare la storia e l'argomento, ma anche di far lavorare gli alunni su comprensione e pronuncia. A destra, in funzione di quelli che io possa utilizzare, ho questi tastoni colorati. Vedete il challenge? Qui non si può utilizzare. Summary, cioè l'indice, non è previsto, però c'è il quiz. Click. Allora, molto interessante la possibilità di svolgere l'attività sia interamente online, con un click su start, che la possibilità addirittura di cliccare download per una versione locale, si dice, avere sul computer, o molto interessante ancora il tastino print. Il tastino print, vedete che apre la finestra dedicata del browser con la voce stampa e mi fa generare la mia attività di modulo in PDF. A i colleghi un pochino più digitali farà pensare a, vediamo un pochettino, ai moduli di Google, ai Google Forms, argomento di cui parlo con videocorsi dedicati sempre qui sul mio canale, con e senza la Google Suite for Education. Aggiungo un particolare, qualora noi volessimo intervenire magari sulla compilazione digitale di questo PDF, possiamo usare una risorsa come DocHub, DocHub, di cui ho parlato sempre qui nel canale. Quindi vedete quante frecce al nostro arco per poter lavorare con la didattica digitale. Allora, io qua clicco annulla e vi mostro un pochettino come avviene l'attività proposta ad un alunno. In realtà questa, io potrei condividerla con un alunno banalmente andando a prendere questo indirizzo, cioè questo URL qui in alto, copiandolo ed incollandolo in Classroom, registro elettronico e così via. Io inizio la compilazione, clicco su Start, vi prego di non badare alle risposte, cerco di arrivare al fondo. Interessante anche il video da poter avviare, vedete, a destra, come ripasso per poi poter rispondere. Allora, io qua seleziono risposta, clicco freccia e andrò rigorosamente avanti così fino alla fine. Mi perdonino i colleghi di inglese di scienze. Sto veramente rispondendo con il metodo ambarabacici cocco. Allora, andiamo ancora a fare un click, andiamo ancora a fare un click, andiamo ancora a fare un click al termine dell'attività. Oh, mamma mia, ho il mio riepilogo in centesimi e la possibilità di cliccare su Finish per poter passare ad altre attività ancora su Finish, o se ricordate c'era quello Start Over, che mi avrebbe fatto ripetere il gioco dall'inizio. Vi mostro in ultimo cosa accade cliccando su Login al bisogno. Con un click e poi cliccando Not a member yet, non sei ancora membro, clic, posso usufruire di una prova gratuita di 90 giorni senza indicazione della carta di credito. Però, ve lo devo dire, guardate cosa accade se io clicco sulla categoria educators, educatori. Ecco, i piani a pagamento, pur se a questo punto diventano, anzi tramutano, perdonatemi, in un ambiente di apprendimento, sono non onerosi, mi permetto di dire, però se intendiamo praticare il CLIL, utilizzare questa risorsa per la disciplina, ad esempio, per la lingua straniera, lo vedo un ottimo investimento. Diversamente ci sono attività che posso autocostruire con altre risorse, World Wall, Quizzes, eccetera, eccetera. Il pacchetto homeschool, che dà un accesso illimitato per un singolo insegnante fino a 5 studenti, con accesso mobile incluso, è un abbonamento di un anno, è di 49 dollari. Oppure ancora c'è il cosiddetto abbonamento classroom, che però prevede accesso per un singolo studente fino a 50 studenti, ecco allora tra il homeschool e il classroom, forse il piano, più di riferimento, pensando a una classe media, per noi è questo. A questo punto io poi vado a cliccare su 90 days free trial, la prova di 90 giorni, e vedete che mi vengono richiesti i dati anagrafici come docente, ma anche della scuola, e poi in realtà decide, questo è molto interessante, perché non tutte le scuole sappiamo hanno la Google Suite for Education o prevedono un indirizzo email normato per gli alunni, io posso, se contemplo l'utilizzo poi da parte degli alunni, decidere che gli studenti si registrino qui solo fornendo una username e una password, per cui, molto interessante questa opzione, per gli alunni che non abbiano o non vogliano fornire un indirizzo email. Ecco, un'altra freccia al nostro arco, a voi sempre la prova pratica su strada, e vi ricordo che la didattica a distanza, sì, è stata asservita ad un tempo di crisi, ma la didattica digitale esisteva prima, è esistita e divenuta salvifica durante, ma continuerà nel futuro senza scadenza ad accompagnare la nostra didattica curricolare ordinaria. Ancora, un caro saluto da Andrea Cartotto ed appuntamento al prossimo videocorso.